19 comuni, 40 aziende biologiche, 16 cantine sociali e private sono entrate a far parte del distretto biologico denominato Biodistretto Le Verdi Valli Tiatine. Oggi, come dicevo, certifichiamo la nascita di questo biodistretto che è stata cullata dalla manifestazione fieristica che si tiene ogni anno a Vagri, che è stato il momento di riflessione che attraverso il decreto legge di qualche tempo fa, noi oggi con questo strumento cerchiamo di interpretare anche il cambiamento dei tempi. Uno strumento indispensabile è stato detto per partecipare ai bandi ed attingere fondi per il rilancio del territorio, che comprende le due valli del Foro e dell'Alento. Eccellenze come riferimento per aggregare e costruire progetti e programmazioni di sviluppo territoriale che possano raccontare tramite la qualità dei nostri prodotti, storia, cultura, identità e tradizione della nostra terra. Assessore, veniamo ad un altro argomento, parliamo dell'abbattimento dei 500 cervi, oltre a associazioni ambientaliste si registrano proprio in queste ore gli interventi del regista Milani e dell'attore Gasman contro questo provvedimento. Che cosa dire? Noi diciamo semplicemente che nella parte della nostra regione, a seguito di studi, a seguito di tutta una serie di attività fatte da professionisti, avallate dall'ISPRA, così come avviene in altre regioni d'Italia, perché non è l'Abruzzo, è in altre regioni d'Italia, in tantissime regioni d'Italia c'è questo problema. Ne cito alcune che sono gli esempi che tutti quanti facciamo sempre, che sono la Toscana, il Veneto, l'Emilia Romagna, regioni che definiamo sempre avanguardista, regioni che sono esempi per l'ambiente, regioni che sono emblema per il turismo, fanno gli abbattimenti da anni che sono, è bene precisarlo, selettivi, fatti in maniera scientifica e non fatti così tanto per farli. Sono indicazioni che ci vengono dai professionisti, dai tecnici, da coloro i quali sono i detentori della conoscenza e che hanno evidenziato ciò che abbiamo capito, che è la difficoltà per tantissime aziende agricole di andare avanti e gli incidenti stradali che sono in continuamento. Nessuno vuole intraprendere un'azione scriteriata o chi sa quant'altro, ma è un'azione che viene fatta a seguito di studi, approfondimenti e analisi fatti dai tecnici e riconosciute e approvate dall'ISPRA, che è l'Istituto Superiore che a livello nazionale sancisce queste cose. Grazie.